Isola, Ilari Blasi non si risparmia, che stoccata ad Alfonso Signorini. Ilari Blasi lancia una frecciata ad Alfonso Signorini, da opinionista alla conduzione è un attimo. È iniziata anche questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi. L'opinionista ha però dichiarato subito di non essere interessata, e Ilari Blasi ha quindi lanciato una bella frecciata ad Alfonso Signorini, che da opinionista del GFVIP è diventato conduttore al suo posto. Il video è disponibile dopo il secondo paragrafo, ma tu sai che da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene. L'Isola dei Famosi, Ilari Blasi e la stoccata ad Alfonso Signorini, interviene Nicola Savino. Ovviamente Nicola Savino non si è lasciato sfuggire la battuta di Ilari Blasi stasera all'Isola dei Famosi nei confronti di Alfonso Signorini. Difatti il popolare opinionista, dopo essersi fatto una risata di gusto, ha subito chiosato, beh, la storia è questa. È inutile negare il fatto che sui social abbiano tutti apprezzato la battuta velenosa di Ilari Blasi all'Isola dei Famosi. Asserendo che con il suo solito umorismo l'ha toccata pianissimo nei confronti di Alfonso Signorini, sul quale ha espresso la sua opinione Adriana Volpe. Vladimir Luxuria ironizza all'Isola dei Famosi, potrei fare la palma. Intanto Vladimir Luxuria ha subito ironizzato sul fatto che ormai ha fatto talmente tante volte l'Isola dei Famosi ricoprendo qualsiasi ruolo, a parte la conduttrice. Che le manca giusto fare la palma, conduttrice? No, no. Potrei fare la palma. Mi ci trovo meglio. Mi ci sento portata. Vladimir Luxuria, nel corso di questa puntata. Ha poi scagliato più di qualche frecciatina ai veri concorrenti dell'Isola dei Famosi, cercando di metterli subito in difficoltà.